E del taglio di tribunale, in particolar modo di quello di Bassano del Grappa, ne ha parlato anche oggi il governatore del Veneto Luca Zai a Sarcedo in provincia di Vicenza, dove è stato inaugurato un ponte per la pedemontana. Per noi c'era Marco Bressanelli. Il vero di questo ponte, cosa significa? Beh, obiettivo raggiunto, un altro obiettivo che abbiamo segnato come regione è la volontà di dire che questi 99 km di nastro d'asfalto che interesseranno 36 comuni della provincia di Treviso e Vicenza diventano e sono realtà. Superstrada pedemontana Veneta, traguardo per il 2016 che è possibile anticipare? Dobbiamo anticiparlo e abbiamo già tutto il piano finanziario definito, che sono 2 miliardi e 130 milioni di opere, riguardano 94,5 km, 36 comuni, 16 caselli, ma soprattutto ricordiamo che almeno 70 comuni avranno l'esenzione dal pedaggio. Che impatto c'è dal punto di vista lavorativo in Veneto con quest'opera? Mi sento di dire che già solo questo cantiere ha 300 lavoratori, dei quali 180 sono da parte dei subappaltatori veneti. Ringrazio l'azienda che ha accettato di accogliere questo mio invito pubblico di far lavorare le imprese del Veneto. Sono migliaia di lavoratori che lavoreranno su questi 94,5 km e porteranno Sapienza e Laboriosità Veneta a realizzare questa superstrada. Nei giorni scorsi era stato detto che quasi tutte, anzi tutte le grandi opere in Veneto suscitano polemiche. Che messaggio vuol dare in questa giornata? Guardi, noi dobbiamo tutelare gli interessi della collettività. Qui la comunità veneta si è espressa in maniera univoca a favore della superstrada Pedemontana Veneta e noi la realizziamo. Poi rispettiamo le idee di tutti e ci confrontiamo fino in fondo. Quest'opera ha avuto una mitigazione che è unica. Basti pensare che l'80% del nastro d'asfalto correrà in trincea sotto il piano campagna. Originariamente non era così, ma poi una volta deciso si deve fare. Poi se qualcuno vuole continuare ad oltranza con i comitati, libero di farlo, siamo in democrazia, ma noi la strada la facciamo. Alto Vicentino sino a Treviso Nord, zone strategiche dal punto di vista imprenditoriale. Che cosa si aspetta una volta terminata quest'opera? Aumenta la competitività. Basterebbe fare un esempio. Questa percorrenza dall'Alto Vicentino a Treviso Nord oggi significa più di un'ora, un quarto di auto, di furgone o peggio ancora di camion. Dall'altro con questa superstrada ha decisamente sotto la mezz'ora, il che significa recuperare i tempi, ma recuperare anche sul fronte della sicurezza stradale e quindi di eventuali incidenti o morti sulle strade. Ci aspetta conseguentemente anche maggiori investimenti da queste due aree strategiche? Ma investimenti che vanno nell'ottica della riqualificazione, della interconnessione con questo nuovo nastro d'asfalto e la volontà ovviamente di portare avanti questa sfida che è quella di non perdere queste 600 mila magnifiche, fantastiche partite IVA che danno occupazione ai Veneti. C'è Bassano innanzitutto davanti a tutti gli altri tribunali in questo momento, però ce ne sono altri in Veneto che in questo momento stanno per chiudere. Qual è il suo commento? Il mio commento è che noi abbiamo otto tribunali in Veneto e non sette tribunali e un tribunalino che è quello di Bassano. Bassano a rango di tribunale deve restare tribunale. Abbiamo già dato tanto con questa riforma perché c'è la chiusura di almeno una diecina di sezioni di altri tribunali in Veneto e quindi vogliamo difendere fino in fondo il nostro tribunale di Bassano. Rilancio ancora di più, dico che il tribunale di Bassano merita lo status del tribunale della pedemontana che si potrebbe rivolgere virtualmente a oltre 500 mila abitanti. Darebbe servizi a territori che vanno da Tiene fino a Montebelluna. Ma anche la possibilità di dimostrare che questa efficienza dei due anni e mezzo per una causa civile sono realtà non solo per questo territorio, quindi il bassanese, ma lo debbono essere per tutto il Veneto. Sull'Anse si leggeva di un incontro con il Presidente degli Avvocati di Bassano, l'Avvocato Savio, ne ha già parlato con lui? L'ho incontrato questa mattina, c'è un'assoluta assonanza di intenti, di volontà e di determinazione, me lo lasci dire, sono al loro fianco in questa celebrazione virtuale del funerale del tribunale. Non ci sono perché ho altri due impegni, uno a Belluno e uno a Stra, a Venezia. Però è tanto vero che noi il funerale lo celebriamo perché è un elemento di comunicazione, ma noi non vogliamo chiudere il tribunale, il tribunale deve restare aperto con la procura, la sezione civile e la sezione penale. Questo è quello che vogliamo, questo territorio dà 18 miliardi di tasse all'anno a Roma e non esiste che qualcuno ci dice che dobbiamo chiudere il nostro tribunale. E con questo braccio di ferro dove siete pronti ad arrivare? Perché in questo momento c'è anche chi vuole chiuderlo ed è difficile anche convincerlo a non fare così. È un braccio di ferro, io ricordo i cartoni animati, prima gli spinacci, li abbiamo già presi, avvisiamo tutti che abbiamo già preso gli spinacci, voi vi ricordate che faceva un braccio di ferro dopo gli spinacci, spaccava tutto. Senta, il fatto che la procura da lunedì è a Vicenza, non sarà facile adesso tornare indietro, almeno per quanto riguarda il discorso penale? Ma guarda, io considero il ministro Calcianieri una persona pragmatica, intelligente e che conosce per fortuna il nostro territorio. Spero che questa specie di limbo, definiamolo così, io mi rifiuto di pensare che si stia celebrando il funerale o peggio ancora che stiamo assistendo a una lenta agonia del tribunale di Bassano. Spero che questo limbo nel quale ci troviamo serva a rivedere le posizioni e serva a tenere aperto questo tribunale assieme agli altri sette eletti assieme a questo. Non solo Bassano, ma stessa sorte anche per le serie di staccate del Trevigiano. Le sezioni di staccate sono ancora un'altra partita, noi non siamo contro la razionalizzazione, le economie di scala, ma la sposiamo nel momento in cui c'è l'efficienza. Efficienza vuol dire che un cittadino deve essere competitivo, in Italia si parla spesso di competizione rispetto agli stati stranieri. Il problema non è solo di tasse, di pagarne di meno, è anche avere una causa civile risolta come accade in Germania in sei mesi e non in sette anni come accade qui da noi. Sette anni vuol dire che chi deve dare i soldi a un imprenditore non glieli darà mai e l'imprenditore fallirà. Questo è quello che sta accadendo da noi.